La Calabria non è una reality show e non si può governare da Roma, posto nel quale la presidente Iole Santelli risiede da anni e città dalla quale è rientrata dopo l'insediamento avvenuto solo due giorni fa presso la città della regionale. Parole dure, quelle pronunciate da Pippo Callipo, che dimostrano ancora una volta la non approvazione circa l'operato della neogovernatrice eletta, che a suo dire governerebbe la regione dalla capitale per almeno tre giorni a settimana. Non è certo un buon principio, aggiunge, i calabresi non meritano di essere presi in giro. Con tutti i drammi e le emergenze che incombono sul territorio non possiamo assolutamente permetterci una governance part-time, chiosa il re del tonno. Il cuore della regione deve battere in Calabria e non altrove.